Grazie. Signor Presidente, signor Viceministro, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato quanto è accaduto lo scorso 5 giugno a Terni in occasione dello sciopero dei lavoratori della ex Thyssen. Alcune persone sono rimaste ferite su come sia andata esattamente, aspetta a voi, attraverso l'indagine, fare piena luce, accertare le responsabilità degli accaduti. Noi oggi condanniamo qualsiasi episodio di violenza. Le manifestazioni di protesta esprimono spesso disagio sociale. I cortei di lavoratori poi anche forte preoccupazione per l'incertezza del proprio futuro occupazionale. Parliamo di persone che vivono momenti drammatici, sentono lo spettro della disoccupazione e temono di rimanere privi di sostentamento economico per sé e per le loro famiglie. Sono pervasi da un senso di frustrazione e ingroscia e lo sciopero individuato come lo strumento per farsi sentire. Hanno quindi bisogno di risposte e anche di sostegno. Il nostro, purtroppo, non è un Paese dove perso un lavoro ne puoi trovare un altro, tutt'altro. Se perdi l'occupazione rischi di diventare un esodato, una persona a rischio di esclusione sociale. Sono ormai quotidiane, come ricordava lei, Vice Ministro, le manifestazioni di lavoratori a rischio occupazionale. Noi esprimiamo dunque la solidarietà nei confronti di tutti questi lavoratori, ma anche a tutti quei lavoratori che hanno perso o sono in precinto di perdere il posto di lavoro, perché l'impresa è fallita o sta per diventarlo. Cogliamo l'occasione di questa informativa per invitare il Governo a varare il più presto le linee di intervento per promuovere l'occupazione e la ripresa del sistema produttivo. Ricordiamo che il Presidente Letta, nel suo discorso di insediamento, ha dichiarato che la mancanza di lavoro è la grande tragedia di questi tempi e che ridare lavoro sarà la prima priorità di questo Governo, riconoscendo altresì la necessità di operare una riduzione della pressione fiscale per dare alle aziende una boccata d'ossigeno e migliorarne il grado di competitività e successivamente l'attrattività per nuovi insediamenti produttivi, alleggerendo fisco, burocrazia e velocizzando i tempi della giustizia. Urge un pacchetto lavoro con annessi fondi e stanziamenti urgenti. Non possiamo abbandonare i cittadini. Il Governo ha il dovere di dare ad essi risposte concrete e possibilità. Un futuro certo, essendo il Paese basato sul lavoro, come dice la Costituzione, alla quale sempre ci si appella. Gentile Vice Ministro, un mese è già passato. Non fatene trascorrere altri perché la disoccupazione è in crescita e i dati sono allarmanti. Il sistema produttivo sta scomparendo e il Paese sta morendo. Grazie.